Se avete cliccato questo video deduco che non vediate l'ora di migliorare le vostre fotografie. Oggi andremo a commentare il portfolio di uno di voi che me l'ha sottoposto e vi ricordo che per sottopormi i vostri portfolio il metodo è link che non scade, quindi Amazon Photos o Google Photos me lo inviate con un messaggio diretto su Instagram. Vi ricordo anche di iscrivervi subito al canale perché ovviamente io vado a controllare quelli che si sono iscritti, avranno la precedenza se sottopongono le loro immagini per una critica. Oggi andiamo appunto a esaminare un portfolio, andremo a vedere non qual è il modo giusto di fare le foto perché io non ho la verità rivelata, andrò semplicemente a dirvi se secondo me si poteva fare qualcosa di più o qualcosa di meglio oppure se la fotografia secondo me è fatta a regola d'arte. Lo vedremo ovviamente attraverso il mio personale filtro che è quello più lavorativo aziendale. Ovviamente io non sono un artista, sono un artigiano, quindi non vado a dirvi è bella artisticamente, vado semplicemente a dirvi è corretta da un punto di vista lavorativo. Quindi quello che vi dico io è se un mio cliente la accetterebbe o ve la farebbe rifare. Questo è un po' il mio criterio con cui vado a commentare le vostre immagini e adesso possiamo andare a cominciare. Abbiamo quest'immagine che mi sembra esposta molto bene, i colori sono molto belli. La principale critica che mi sento di fare a un'immagine come questa è innanzitutto vedo un qualcosa in basso a sinistra che mi sembra un pezzo di un agruno, non capisco bene cosa sia. Io quello l'avrei o messo dentro completamente o evitato, così mi crea solo un po' di fastidio. Inoltre questa è la tipica foto dove i colori sono belli, l'esposizione è giusta, però mi racconta poco al di là del semplice paesaggio. Se ci fosse stato qualcosa, un tronco caduto, qualcosa davanti che mi portava un po' dentro l'avrei preferita. Andiamo avanti, questo qui sembra un cavallino d'argento che non credo che sia di una Ferrari perché vedo un orologio dietro, quindi probabilmente è un orologio antico. La foto in sé secondo me ci può anche stare, però anche qui è poco descrittiva di quello che stiamo vedendo. Io forse avrei preferito vedere l'oggetto intero per capire di che tipo di artefatto si trattava. Tra l'altro vediamo che stiamo scattando con una EOS R50 e con un 18 mm, quindi probabilmente è l'obiettivo kit, questa informazione potrebbe tornarci utile. Qui abbiamo un alba o tramonto, poco importa. Non è male, ci sono dei bei colori, è una scena abbastanza particolare, devo dire. Vediamo un po', 45 mm, sì, quindi è proprio il 18-45. Bellissimo il sole, carino il contrasto, bella la silhouette degli alberi. Anche qui è una foto dove il soggetto è prevalentemente naturalistico, quindi è un paesaggio che secondo me deve colpire semplicemente per il contrasto che si va a creare. Forse io avrei lavorato in maniera diversa sui colori, però forse era fedele così la scena, quindi può anche essere che sia assolutamente fedele a quello che si vedeva. Altra, suppongo alba o tramonto, non ha neanche molta importanza, questa non è male. Io qui me la sarei giocata in maniera lievemente diversa però, ovvero, e mi rendo conto che poteva significare dover entrare in acqua e magari uno dice ma chi me lo fa fare, ma perché devo entrare in acqua, la faccio da qui bello comodo. Secondo me se entravamo in acqua con un treppiede, stavamo belli bassi su quelle rocce, veniva fuori una cosa che aveva un po' più di mordente. Inoltre, sempre stando su treppiede, potevamo fare una posa lunga per avere l'effetto seta sull'acqua e veniva una bomba pazzesca. La scena è bella, però così mi sembra che sia scattata senza prendere questi accorgimenti e ci sta, perché magari uno il treppiede non ce l'ha e voglia di bagnarsi i piedi, men che meno. Io vi dico solo cosa si sarebbe potuto fare in più. Ragazzi, giusto una piccola precisazione dal me del futuro. Mi sono reso conto, andando a vedere il profilo Instagram del fotografo che ci ha mandato oggi il materiale, se la dicitura è corretta. Questo fotografo ha 15 anni. Ragazzi, complimenti, perché a 15 anni tirare fuori delle cose come queste, bravo, veramente bravo. Qui abbiamo un bianco e nero, un raro caso, devo dire raro perché insomma sono pochi che hanno attenzione per queste cose, un raro caso in cui la fotografia è dritta, quindi io questa cosa sicuramente l'apprezzo. Non so che cosa c'era sulla destra lungo quel muro, personalmente io avrei composto diversamente. Io avrei composto prendendo un po' più di muro e tagliando quella porzione sulla sinistra della casupola, perché in quella porzione a sinistra io vedo solo due lampioni che non mi dicono assolutamente niente, invece prendere un po' di muro secondo me avrebbe potuto essere più significativo. Non sono sicuro che il bianco e nero sia la scelta giusta. Vorrei vederla a colori per capire se il bianco e nero è la scelta giusta. Può essere di sì, ma non ne sono convinto. Questa è carina, l'idea di mettere l'albero composto al centro ci sta, il cielo è molto molto grazioso. Io avrei tagliato tutta quell'erba sotto, perché tutta quella parte di prato sotto non mi sta dando niente e quindi io l'avrei tagliata più su. Per il resto va bene, funziona. Io questa avrei provato a comporla anche con l'albero sui terzi, giusto per avere delle varianti, cosa che forse è stata fatta. Diciamo che globalmente funziona. Non c'è un punto di riferimento fortissimo, perché l'albero è abbastanza distante. Io forse mi sarei avvicinato a quell'albero. Ah, ragazzi, attenzione. Qui abbiamo una bella via Lattea, con anche, credo, una stella cadente, forse addirittura due. Questa è bella, c'è niente da dire. Io quando vedo... Questo è un gesto tecnico che apprezzo tantissimo. Dunque, vediamo con cosa è stata fatta. sempre con la R50 e con il 18mm ISO 3200. Ragazzi, questo ci dà un'informazione importante. Con questa macchina e con l'obiettivo kit riusciamo a tirare fuori questa roba. Quindi, la Canon EOS R50, che io ho anche recensito sul canale, io l'astrofotografia non l'ho potuta fare, però guardate qua che cosa si tira fuori con questa macchina che è dichiaratamente entry level, dichiaratamente da poco, mettiamola così. C'è una macchinina che uno dice sì, la compro quando voglio andare a risparmio. guardate uno che è capace che cosa vi tira fuori con questa macchina, con l'obiettivo kit. Neanche con un obiettivo particolare. Tutto kit e guardate che cosa vi tira fuori. Complimenti, molto bella. Andiamo avanti e questo sono abbastanza sicuro che sia un riccio di mare e siamo a 21mm, il che ci dice anche che l'obiettivo kit ha una discreta capacità macro. Guardate di quanto si riesce ad avvicinare. Dunque, la fotografia mi sembra fortemente contrastata probabilmente anche con una post-produzione un po' aggressiva. Mi sembra di vedere della chiarezza aumentata qui. Il che ci sta, c'è un contrasto un po' esasperato, ma è chiaramente voluta la cosa. È una foto, secondo me, che ha quasi una velleità artistica, ma non sono sicuro che riesca pienamente ad arrivarci, perché comunque il soggetto è chiaramente un guscio di un riccio di mare appoggiato su una superficie nera. Idemdicasi per... Questa è una serie di scatti che ci possono stare. Questi sono quelli che io chiamo gli studi. Questo è uno studio sul chiaroscuro applicato a degli oggetti in modalità macro. Ci possono stare, però a mio parere sono foto che non emozionano e non emozionano perché non c'è emozione, è molto descrittiva. Per quanto sia bella la superficie, la texture, devo dire che ha proprio un bel dettaglio. Di nuovo, nonostante stiamo usando una macchina entry level con l'obiettivo kit, ha un bel dettaglio, bello crispy. Però sono foto che parlano poco, raccontano poco, secondo me. Andiamo avanti. Qui abbiamo un bel coniglio. Cioè, ragazzi, guardate con la R50, con l'obiettivo kit, quante cose si riescono a fare. Astrofotografia, fotografia di animali. Qui mi ha beccato un coniglio. Probabilmente sarà una... Io non sono tanto esperto di conigli. Sarà una lepre, sarà selvatico. Quindi anche avvicinarsi così e beccarlo... Complimenti, non è da tutti. Mi sembra anche di vedere un trattamento con un po' di fade su questa foto che è carino, ci sta. Andiamo avanti. Qui abbiamo un framing sicuramente efficace di questo isolotto che non riconosco. Non è Monte Cristo, no. Non ho informazioni sulla location. Esposta magnificamente, direi, perché abbiamo la piena leggibilità sia sui fiori, sia sulle parti in ombra, sia sull'orizzonte. Forse intravedo un po' di bending nelle alte luci dietro le montagne. Bending che ci può stare perché il discorso è che se abbiamo cercato di recuperare quell'area che magari era bruciata viene fuori un po' di bending perché non abbiamo tutte le informazioni. Ci sta, succede. La foto, secondo me, è fatta al meglio delle possibilità che avevamo. Se poi viene fuori del bending e lì è un difetto del mezzo e non ci possiamo fare nulla. bella, 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 foto crepuscolare mi verrebbe da dire. Oppure è fatta di giorno con un'esposizione abbassata ma secondo me è fatta al tramonto con questa luce che colpisce questi bicchieri di... non capisco di cosa però sembra bello fresco e dissetante. Mi piace la composizione ma soprattutto la composizione forse si poteva fare meglio, eh. Non vi so dire. Sicuramente si poteva... Allora, forse quell'ombrellone dietro non mi fa impazzire. Mi rendo conto che è rappresentativo della scena quindi ci sta che sia lì. in un mondo ideale io avrei composto lievemente di lato in modo da avere dietro quella che sembra una montagna i bicchieri da soli e anche quei cestini dietro quello che non mi piace dei cestini è la carta quella carta che viene fuori non mi piace tantissimo proprio a livello visivo però bella foto perché comunque l'impatto è molto forte questo rosso che viene fuori è molto potente questa secondo me ci sta. E qui mi sa che siamo sempre nello stesso scenario qui siamo a un aperitivo questa mi colpisce molto meno perché qui non c'è così tanto contrasto cromatico questa è proprio è una tartina con su del baccalà mantecato ve lo dico io sembra proprio baccalà mantecato che sarà stato sicuramente buonissimo questa foto mi colpisce molto meno è molto descrittiva sembrano le foto di rito che faccio io quando faccio gli eventi corporate ci sta si fanno però non è una foto che mi emoziona ecco. qui abbiamo un che cos'è un tre alberi un veliero molto molto bella l'imbarcazione probabilmente questa foto è stata scattata in movimento da un'altra imbarcazione un contesto non facile da cui mi rendo conto che non si può fare quello che si vuole perché non si può comporre come vogliamo stiamo andando in barca e quindi facciamo quello che che riusciamo secondo me ci sta la composizione va bene non è una foto particolarmente forte perché il veliero è preso di poppa se fosse stato di tre quarti sarebbe stata molto più forte però appunto mi rendo conto che non si può fare granché più di così anzi bello il gesto tecnico di beccare il momento in cui la bandiera è perfettamente spiegata diciamo che ci sta oh oh ragazzi questa mi piace io qui a me bastano due nuvole ormai l'avrete capito se volete che io parli bene delle vostre foto mi sbattete giù due tramonti e il gioco è fatto questa è molto bella è composta molto bene perché abbiamo abbiamo tutti gli elementi al posto giusto c'è questo orizzonte frastagliato che incornicia meravigliosamente queste nuvole i colori sono dannatamente belli e l'esposizione è perfetta fantastica intravedo una persona piccola in lontananza che però non mi crea nessunissimo problema anzi forse aggiunge qualcosa all'immagine crea un pochettino di mistero questa secondo me questa ha già vinto andiamo avanti ma questa ha già vinto macro su un fiorellino allora non ci posso credere ragazzi stiamo ancora usando il 18 mm standard è incredibile che cosa si riesce a fare con questa macchina cioè passiamo dalla macro spinta all'astrofotografia sta macchinetta fa tutto bestiale sono colpito devo riconoscere e allora la foto secondo me ci sta è a fuoco la parte centrale dei petali peccato che sono lievemente sfocati i pistilli qui in un contesto ideale io avrei chiuso il diaframma e cercato di tenere tutta quanta quella porzione a fuoco se fosse stato possibile sarebbe stato secondo me meglio diciamo la foto funziona allo stesso e l'esposizione comunque è sempre molto buona andiamo avanti che cos'è questo è un trullo forse questa mi piace questa mi piace ragazzi perché guardate il cielo è bello leggibilità perfetta su tutto il fotogramma centrato ma ci sta che sia centrato funziona io la vedo bene vedo anche dei bei colori una bella separazione tra questa linea di roccia che ha un suo colore e mare e cielo che hanno un altro colore che è abbastanza complementare unico difetto proprio per voler guardare il pelo nell'uovo anche qui mi sembra di vedere un po' di bending nelle alte luci del cielo di nuovo ci sta abbiamo scattato la foto e poi vogliamo fare un recupero viene fuori del bending e possiamo provare a mitigarlo però se è stata catturata così è stata catturata così secondo me non è niente male comunque andiamo avanti qui abbiamo mi sembra di aver capito che qui siamo siamo in barca ma proprio prepotentemente perché vedo sempre foto fatte dall'acqua questa veduta non mi dice tantissimo cioè sì descrittiva un po' cartolina c'è una bella separazione cromatica c'è un po' un trattamento che ha anche enfatizzato il contrasto tra il blu dell'acqua e del cielo e l'arancione di questa sponda con della terracotta l'idea ci sta forse io avrei provato a farla un po' più da vicino qui siamo a 45 mm quindi più vicino di così non si poteva vedete mi rendo conto io stesso che spesso è stato fatto tutto quello che si poteva andiamo avanti qui abbiamo un aereo un come si dice un aliscafo che è stato beccato anche qui a 45 quindi come si poteva zoomare più di così non era possibile secondo me non è niente male io forse questa l'avrei fatta orizzontale perché l'idea che l'aereo stia volando comunque in orizzontale gli avrei dato più aria però è una foto che ci sta decisamente ci sta qui di nuovo abbiamo macro ecco questa mi piace di più di quella di prima perché c'è uno sfondo che mi piace molto di più mi porta bene dentro è tutto bello a fuoco il fiore questa niente da dire bella esposta bene fiore anche carino sempre con questo cavolo di 18 18 45 sulla Canon EOS R50 ragazzi vi rendete conto che questa macchina è una bombetta è veramente vengono fuori delle cosine e qui abbiamo a che fare con un utente che avendocela l'ha sfruttata più di me che l'ho recensita per un paio di settimane qui vediamo veramente che cosa è in grado di fare questa macchina andiamo a vedere qui abbiamo questo sembra un airone allora ragazzi questa a me non fa impazzire e vi dico perché tenendo conto di tutti i limiti tecnici di cui abbiamo già parlato quindi abbiamo a disposizione solo sembrerebbe un 18 45 e stiamo usando una macchina comunque entry level quindi senza nulla togliere allo scatto che a livello tecnico va bene ci sta cioè il fotografo l'ha beccato l'ha beccato l'airone e va bene così però io questa l'avrei scartata l'avrei scartata dal portfoglio perché la posizione dell'airone non è particolarmente edificante cioè lo stiamo vedendo sotto dalla pancia dalla parte delle zampe secondo me non è la sua angolazione migliore quindi io questa foto l'avrei semplicemente scartata l'avrei tolta dalla selezione parere mio andiamo avanti qui abbiamo un paesaggio allora l'idea è buona l'idea è buona perché qui c'è del framing attenzione ragazzi vedete non so se riuscite a vederli qui su questo cielo vediamo molto chiaramente che ci sono dei puntini dei dust spot cioè della polvere che si è depositata sul sensore il mio consiglio è di fare una pulizia qui perché questo può rovinarci una serie incredibile di immagini se noi scattiamo con la polvere sul sensore sono tutte rovinate e dobbiamo poi andare a fare della post per sistemarle e se sono tre vabbè lo facciamo ma se sono 300 sono dolori quindi il mio consiglio è di pulire quella polvere dal sensore qui questa foto poteva essere fantastica però io qui avrei fatto un focus stacking avrei fatto una foto per mettere a fuoco i fiori e poi un'altra foto che è questa che è stata fatta per mettere a fuoco lo sfondo unendo le due foto avendo quindi tutti i piani perfettamente a fuoco questa era una cannonata pazzesca questi fiori sfocati in primo piano a me non fanno impazzire li avrei preferiti a fuoco andiamo avanti e qui abbiamo un momento di intimità tra due libellule che si sono posate su un pino una conifera non capisco che pianta sia questa immagine mi piace molto perché a livello di impatto è una texture bellissima l'esposizione e il trattamento dell'immagine sono molto belli molto personali secondo me è molto bella questa immagine mi domando se si sarebbe potuto allora questa è bellissima così io avrei provato a farne anche una delle libellule più ravvicinate se si riusciva in modo da averle tutte e due però ho detto questa qui è molto bella e è bella anche così a primo impatto se uno la vede da lontano le libellule non le vede neanche ma è una bella texture lo stesso molto carina andiamo avanti qui abbiamo di nuovo un tramonto bello niente da dire è composta bene incorniciata bene qui gli alberi non mi danno fastidio come il prato di cui parlavamo all'inizio non capisco in che zona siamo però funziona assolutamente funziona su questa ho veramente poco da dire forse l'orizzonte non è drittissimo si può ancora sistemare si raddrizza tranquillamente in posto volendo andiamo avanti beh bomba cioè ragazzi l'avete capito che se volete i complimenti mi dovete mandare i tramonti incorniciata benissimo ci sono gli alberi sotto le nuvole sopra colori fantastici posto bellissimo e vi ricordo che stiamo sempre lavorando con un entry level quindi per dire se uno è capace vedete che le cose vengono fuori anche se lavoriamo con una macchinina non particolarmente progredita andiamo avanti paesaggio con ponte carino ci sta forse l'avrei provata a vedere l'avrei voluta vedere anche in orizzontale avrei voluto vedere lo sviluppo orizzontale di questo ponte però il fatto che sia incorniciato da acqua sotto e alberi sopra ci sta l'esposizione direi che il cielo è giusto le ombre sono un po' aggressive però il cielo è giusto quindi penso che l'esposizione sia stata fatta nel modo migliore possibile e forse non è stata fatta in orizzontale per togliere elementi di disturbo quindi ci sta assolutamente e questa credo che sia l'ultima immagine del nostro portfolio guardate che cavolo di macro si riesce a fare con l'obiettivo kit e con la r50 porca miseria per quanto non sia una macchina e un obiettivo che io ho in programma di acquistare devo dire che vengono fuori delle cose veramente notevoli oltretutto non vedo particolari aberrazioni cromatiche particolari difetti mancanza di nitidezza a me sembrano buone queste foto maledettamente buone considerato con cosa sono state scattate questa di nuovo è una foto che mi piace mi piace moltissimo il colore ci sono un paio di alcune immagini di questo portfolio in cui c'è stato secondo me un trattamento imposto sul colore che è molto bello tira fuori delle nuance molto particolari bello ben fatto di nuovo questa è una foto che non dice granché a livello di narrazione c'è molto poco qui è proprio solo la texture di una foglia però il fatto che sia stata composta così con dietro quello sfondo ci sta in qualche maniera ci sta secondo me sono carine no non era l'ultima ho sbagliato non era l'ultima abbiamo questa bicicletta appoggiata anche qui vedete io non ci credo che la luce era esattamente così secondo me qui c'è un trattamento in post produzione o comunque con dei filtri messi anche direttamente in macchina magari è stata scattata in jpeg per quello che ne so io però io vedo un trattamento abbastanza personale qui io sicuramente avrei provato a prendere la bici un po' più di tre quarti perché così la ruota dietro è nascosta ma quelle sono fisime mie spostandosi un pochino a destra secondo me veniva fuori più completa la bici però la fotografia comunque ci sta ed è giusto comporla in verticale ed era questa l'ultima foto di questo portfolio a questo punto ragazzi fatemi sapere come sempre in un commento chi è che ha vinto qual è la foto più bella secondo voi ne parleremo come sempre nei commenti io vi risponderò anche con degli shorts verticali per cui vi invito a iscrivervi se volete capire come si partecipa riguardatevi il video dall'inizio perché l'ho già detto fatemi sapere che cosa ne pensate in generale di questo portfolio se continua a piacervi questo format io mi sto divertendo abbastanza a portarlo avanti e devo dire molti di voi mi stanno mandando delle selezioni di foto molto carine secondo me l'unica cosa che anche qui qui se c'è una cosa su cui il consiglio che mi sento di dare è mandatemi le cose di cui siete veramente sicuri perché ci sono un paio di foto qui quella dell'Airona in particolare ma forse ce n'era anche qualcuna quello studio sui chiaroscuri con i ricci di mare quelle sono foto dove secondo me c'è poca convinzione cioè chiaramente non potete pensare che in un portfolio come questo quella dell'Airona o quella del riccio siano le foto migliori non lo sono secondo me nel momento in cui avete un'indecisione su certe immagini ovviamente potete fare due scelte diametralmente opposte mandarmele lo stesso per sapere cosa ne penso oppure non mandarmele perché se avete un dubbio sulla vostra immagine la scelta che potete fare è anche quella consapevolmente di toglierla in maniera tale da dire di questa foto non sono convinto e quindi come se fosse un lavoro che presentate al vostro cliente questa foto non mi ha convinto non gliela faccio neanche vedere sono due strade sono buone entrambe se non siete convinti dell'immagine poi probabilmente non convince neanche me quindi per questo ve lo dico signori io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video a Grazie a tutti.